Questa mattina i cancelli del cimitero di Sant'Anna Chieti erano regolarmente aperti, ma la decisione di chiudere nel giorno dell'Epifania il Campo Santo, nonostante la neve ormai fosse quasi del tutto scomparsa, non è affatto piaciuta ai fiorai. Il comune con un'ordinanza aveva disposto la chiusura per venerdì e sabato scorsi con possibile proroga legata alle condizioni meteorologiche. I fiorai hanno contestato che non c'è stato alcun annuncio sulla chiusura e questo ha arrecato loro un danno economico. Il cimitero è chiuso e c'era tantissima gente che comunque voleva entrare, che comunque c'era il sole, però l'unico problema è stata la chiusura del cimitero che comunque ha danneggiato tutti i fiorai della zona. Già abbiamo acquistato tutti i fiori da vendere, però purtroppo era chiuso il cimitero. A parte noi per la vendita, che dobbiamo offrire comunque un servizio ai clienti e anche per le persone che ci hanno i gari, comunque deve essere un luogo sempre aperto al pubblico. I residenti di zona Sant'Anna hanno inoltre segnalato che c'è un annoso problema che mette in apprezzione chi percorre via gli anni. Lei ha potuto ben notare attraversando la strada che è quasi praticamente impossibile attraversarla perché bisogna evitare tutte le macchine che a gran velocità passano o corrono. Per quanto riguarda il resto, motorini, camion, sembra un autodromo. Non ci sono delle tracciature per quanto attiene i parcheggi degli automezzi di noi residenti, tutti i residenti di questa zona. Non ci sono delle barriere per limitare la velocità degli automezzi. E' un'incuria generale per quanto attiene un po' tutto. Non è la mia una polemica, ma bensì che venga posta più attenzione in questa zona denominata Sant'Anna, Orsini, Madonna del Freddo, da parte delle istituzioni preposte.